Marco Cavaliere, studente napoletano di 23 anni, è da oggi il primo presidente del Forum dei Giovani del Comune di Napoli. Con 16 voti a favore su 26 votanti, Cavaliere ha conquistato la maggioranza assoluta dell'Assemblea. La votazione è stata preceduta da alcune dichiarazioni politiche e da qualche polemica. Su scala cittadina abbiamo molto su cui lavorare, dobbiamo rendere una città che sia davvero per i giovani. Napoli ha vinto il premio giovani del 2023, dobbiamo fare in modo che la città sia appunto una città per giovani, quindi che ci siano maggiori spazi di aggregazione, che ci sia una regolamentazione della vita notturna, che non sia vista la movida come una cosa negativa ma come una cosa positiva. La politica è nel quotidiano, noi dobbiamo fare in modo che la politica sia alla portata di tutti, quindi una nostra idea di forum vicina ai ragazzi nel farli sentire quanto più coinvolti possibile. Il Forum dei Giovani è un organismo consultivo istituito dal Comune di Napoli per avvicinare i giovani alla politica e per fornire proposte alle istituzioni cittadine. L'Assemblea del Forum è stata eletta nello scorso dicembre con una votazione online a cui hanno preso parte oltre 7.000 cittadini napoletani di età compresa fra i 16 e i 34 anni. Ci auguriamo che da oggi prenda vita operativamente con la presentazione anche del programma di governo e del Forum, quello che è appunto la vita di questo strumento in cui crediamo molto. Lo Statuto lo definisce uno strumento consultivo della nostra amministrazione, della Giunta e del Consiglio Comunale, ma noi vorremmo che fosse qualcosa in più, che fosse veramente fucina di suggerimenti, di idee, di proposte per quelli che riguardano non solo le politiche giovanili, ma tutte le politiche della nostra città, quindi con uno sguardo ai giovani. Siamo la città più giovane d'Italia ed è giusto che i giovani diano la loro idea e il loro contributo.